Benvenuti in una nuova puntata del TG Velocissimo, presentato un nuovo modello di iPhone, file fuori dal negozio, servizio E' arrivato a trovare, ma che? Linea allo studio Tentativo di record nel bungee jumping in provincia di Treviso, servizio Si è appena buttato, linea allo studio Papagallo Centenario muore inspiegabilmente nella provincia di Verona, servizio Le sue ultime parole? Ho fame, ho fame, inspiegabilmente, linea allo studio In rispetto al papagallo, un minuto di silenzio Ed eccoci di nuovo a TG Velocissimo, aggiornamento sul bungee jumping, come sta andando? Eh, sentito arrivare, linea allo studio E ora l'agricoltore che ha coltivato la zucchina più piccola del Veneto Area qua, linea allo studio E ora invece l'agricoltore che ha coltivato la zucchina più grande del Veneto, servizio E' arrivato a mangiare, linea allo studio Torniamo al tentativo di record nel bungee jumping, come è andata? Minga tanto ben, linea allo studio Porco, con questa notizia il TG Velocissimo si conclude qui, ciao ciao, notte notte